L'oroscopo è offerto da Centro Revisioni Florio Calandra Buongiorno e benvenuti all'oroscopo di Phil Rouge TV Ariete, meritate di meglio, non accontentatevi e puntate ad obiettivi sempre più alti Avete tutte le carte in tavola per riuscirci ed arrivare veramente alle stelle Toro, sembra una giornata un po' grigia per voi, come se non riuscite a carburare e partire Prendetevi del tempo, senza strapassarvi troppo Gemelli, oggi sarà per voi un giorno molto fortunato, sotto molti punti di vista Una persona che vi manca tornerà da voi Cancro Meritate tanta pace in questo periodo Basta stress che sembra veramente perseguitarti sotto ogni punto di vista della tua vita È il momento di liberarsi dalla negatività che ti circonda Leone È un periodo un po' buio per voi Vorreste soltanto trovare qualcuno che vi accetti così come siete Non temete, presto lo troverete Vergine Siate sempre convinti delle vostre scelte Non lasciatevi condizionare dagli altri Anche se sono persone a voi molto care La vita è vostra e se dovete sbagliare Dovete farlo con le vostre mani, andrà bene Bilancia Evitate chi non fa altro che farvi perdere la pazienza Chi vi fa perdere tempo, chi vi fa innervosire Queste persone non vogliono il vostro bene Allontanatevi da esse e andate per la vostra strada Scorpione Siete abituati a sentire parlare male di voi Ormai da sempre Ma ricordate, parlano di voi solo perché siete avanti rispetto a loro E la vostra vita prosegue comunque Anche se vi circondano tante male lingue Sagittario Siete amanti della vostra libertà e della vostra indipendenza Amate lavorare da soli, stare da soli Perché per voi vale il detto Chi fa da sé, fa per tre Anche oggi quindi seguite la vostra indole E liberatevi dagli impiccioni Capricorno Il passato è passato Non rimanete ancorati a ieri Fatene tesoro ma andate avanti Iniziate a progettare il vostro futuro Acquario Non siete un segno che ama ristagnarsi Bisogna cambiare l'acqua E farne entrare nuova e pulita nella vostra vita Liberatevi di ciò che vi fa stare fermo Non vi fa bene Pesci Il vostro carattere lo conosciamo già E oggi si accentuerà ancora di più Siate sempre voi stessi E per questo non piacete mai a tutti Grazie, ci vediamo all'oroscopo di domani Ciao 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 Grazie per la visione!